Potrebbe essere di natura dolosa, anche se manca ancora l'ufficialità. La scientifica tuttavia sta lavorando a ritmi serrati per tentare di capire le cause dell'incendio che ha seriamente danneggiato una struttura sul lungomare di Gallico, a Reggio Calabria. Si tratta dell'ex ristorante Fata Morgana, balzato agli onori di cronaca per essere stato sede del circolo Pescatori Posidonia SD, a cui faceva capo Paolo Romeo, indagato nell'ambito dell'inchiesta, denominata proprio Fata Morgana. Nell'immediatezza dei fatti sul posto sono intervenuti la polizia municipale, i vigili del fuoco, la polizia di Stato e anche la scientifica. Stando alle prime indiscrezioni, le fiamme si sarebbero propagate all'interno del circolo, presumibilmente nella parte sud, ovvero nella zona accessibile via mare. Abbandonato al suo destino fin dal giorno del sequestro del maggio dello scorso anno, il circolo, dopo essere stato passato al setaccio dalla Guardia di Finanza, era rimasto a prendere polvere sul lungomare. E nel giro di poco era finito anche senza energia elettrica, per questo le indagini hanno subito puntato sulla pista dell'incendio doloso.